come un contadino spartì un'oca un povero contadino era rimasto senza grano pensò di chiederne al padrone per non presentarsi al padrone a mani vuote egli ammazzò un'oca l'arrostì e gliela portò il padrone accettò l'oca e disse al contadino ti ringrazio contadino dell'oca solo non so come faremo a spartire la tua oca ecco io ho moglie due figlie due figlie in che modo potremo dividerla senza far torto a nessuno rispose il contadino che la spartirò io prese il coltello tagliò la testa e disse al padrone a te la testa che sei il capo di casa poi tagliò la parte posteriore e lo frì alla donna a te disse che stai sempre seduta in casa e sulla casa vigili il sedere poi tagliò le zampe e le porse ai figli a voi disse le zampe affinché seguiate le orme di vostro padre e alle figlie diede le ali voi presto disse volerete via di casa e a voi ecco le ali il resto me lo prendo io e prese per sé tutta l'oca il padrone rise e diede al contadino grano e denaro un altro contadino ricco sentito dire che il padrone aveva dato al contadino povero grano e denaro in compenso di un'oca arrostì cinque oche e le portò al padrone disse il padrone grazie delle oche ma vedi io ho moglie due figli e due figlie siamo sei in tutto come potrò spartire in parti uguali le due oche il contadino ricco si mise a pensare ma non gli venne in mente nulla allora il padrone mandò a chiamare il contadino povero e gli ordinò di fare la spartizione il contadino povero prese una delle oche e la diede al padrone e alla padrona dicendo eccovi in tre compresa l'oca ne diede un'altra ai figli e anche voi disse siete in tre un'altra la diede alle figlie e anche voi siete in tre infine prese per sé due oche e disse ecco anche noi siamo in tre io e le oche tutto è a posto il padrone rise diede al contadino povero ancora del grano e del denaro e mando via il ricco